Adesso metta like, metta like chi non conosce Mattia Sprocati Quindi, cioè, avrò 2-3 like perché lo conoscerete tutti ragazzi Quindi, signori, Mattia Sprocati è un nuovo giocatore della Lazio Io sono qua che mi tengo alla sede, da l'altro la nuova sede ragazzi, guardate che bella E perché veramente sto trattenendo la gioia ragazzi, perché sto esplodendo di gioia Perché sono quelle notizie che ti lasciano a bocca aperta Bisogna vedere in che senso regà E vi devo dire che, non posso dire che è un senso negativo questo lasciarmi a bocca aperta Però, sono stupito, sono stupito, sono Dico perché, sì, la Roma prende Cristante Il Milan prende Ronaldo, non lo so chi prende il Milan, vabbè E noi prendiamo Mattia Sprocati E vabbè, e vabbè, dai, comunque il primo acquisto, tra virgolette, anche perché Non so se lo sapete, ma facci video apposta per informarvi Che partirà per il ritiro da Oronzo E però, sarà valutato da Inzaghi Perché lui è un attaccante E però, ha lo attaccante, diciamo Che ha giocato nella Senitana, che è sempre dilottito Passa la Lazio e verrà valutato da Inzaghi nel ritiro Di Oronzo di Cadore Quindi non è detto che rimanga la Lazio Magari partirà in prestito È anche una mia sensazione, questa, che partirà in prestito Però, chi lo sa Comunque, ragazzi, io sinceramente L'avevo già sentito di nome Ma, non l'ho mai visto giocare O al massimo ho visto qualche highlights Qualcosa così Comunque, del 93 Quindi, neanche giovanissimo 25 anni, così All'appunto, Tegana della Serenitana E, vado a leggere Grandi doti nel saltare l'uomo Anche se può giocare È una, diciamo Un esterno offensivo Però può giocare come seconda punta O come trequartista Quest'anno la Serenitana ha fatto abbastanza bene Adesso qua, vado a leggere 33 presenze 10 reti Anche una rete in Coppa Italia Quindi, comunque Ragazzi, tanta roba Ragazzi, ma scherziamo 10 gol in serie B Oh, è bella Addirittura, nel suo palmaresse Ha vinto più di totti, ragazzi Sto qua Perché vanto una Lega Pro Prima divisione Perugia Cos'è sta a fare qua? Ha vinto la Lega Pro Prima divisione Ragazzi, vuol tanto capire No, ok Sono io rincoglionito Poi ha vinto una Super Coppa Ragazzi, Lega Pro C'è ma Di cosa stiamo parlando, ragazzi Mamma mia Che colpo di lottito Che tra l'altro non ne manca un colpo Perché della stessa società Ha fatto che prendo Lo dici Guarda, Salerno Prendi il treno 100 metri 100 chilometri E vai a Roma Bah, vabbè Benvenuto al Mattia Spurgati Anzi, adesso che sono qua Li vado a scrivere anche su Instagram Poi magari vi faccio una Instagram Story Seguitemi Appunto Su Instagram Trovate il link Qui sotto Proprio qui Nella descrizione Signori Alla prossima Speriamo che Un prossimo video di un acquisto Sia un acquisto Con la A maiuscola Comunque A parte gli scherzi Auguro il meglio A Mattia Spurgati Adesso li scrivo anche su Instagram Dato che non ho un VIP Magari mi risponde Magari mi caga Dai, vediamo l'altro positivo Bella Alla prossima Sprocati Vabbè Alla prossima